Non sapete mai cosa dovete cucinare per oggi? E accattate in un rotolo di pasta a filo E facete questo tortino croccantissimo Però prima fermatevi da vudumare e accattate gli asparagi Tagliate i torci e li mettete in una tiana con aglio e olio Accunciateli di sale, li fate frivere Dopo mennete un'andecchia d'acqua Mettete un bel cumulio sopra e faceteli cuocere a fiamma lenta lenta Devono appizzare Aspartato prendiamo i fogli di pasta a filo Prendeteli solo uno, non sovate con l'olio Spannitelo bene bene e azzeccate un altro foglio sopra Dovete andare giusto giusto Mettete un altro poco l'olio Sempre spendendo l'anno di paitano pittore Quando vi sentite soddisfatti li arricciate Il primo però li arricciate su se stesso Dovete fare una girandola E li accacciate giusto giusto in mezzo su un bel ruoto Sempre inzevato Fate questo movimento sexy sempre a due a due Inzevate, arricciate e arricciate Fin quando non finiscono E vi sentite pure soddisfatti Ora prendiamo i cosi verdi Allargate leggermente la pasta a filo Lo infuzzate con le rete Fate per tutti, anche per il formaggio filante Per chiudere il quadro spezzate pure un poco di pancetta Così viene più saporito In un piatto sbattete due uova di gallina Coccote, accungiate con sale, pepe, povera bianca e un'andecchia di latte Bacchiate tutto, deve venire una bella scumma E menate tutto sulla pizza di pasta a filo Sbrunzuliatelo bene e bene così si apposa meglio Ora potete cuocere nel fornetto 180 gradi 20-25 minuti Guardate sempre un poco a occhio Et voilà Abbiamo fatto una pizza di pasta a filo croccantissima Facile, veloce e assaporita E come sembra Buon appetito Grazie a tutti